Ogni uomo è unico. Hannah Arendt, vita attiva. Con la parola e con l'agire ci inseriamo nel mondo umano e questo inserimento è come una seconda nascita in cui confermiamo e ci sobarchiamo la nuda realtà della nostra apparenza fisica originale. Il fatto che l'uomo sia capace di azione significa che da lui ci si può attendere l'inatteso che è in grado di compiere ciò che è infinitamente improbabile e ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico e con la nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo nella sua unicità. Di questo qualcuno che è unico si può fondatamente dire che prima di lui non c'era nessuno. Se l'azione come cominciamento corrisponde al fatto della nascita, se questa è la realizzazione della condizione umana della natalità, allora il discorso corrisponde al fatto della distinzione ed è la realizzazione della condizione umana della pluralità, cioè del vivere come distinto e unico essere tra uguali.